Musica Appassionati di business, benvenuti a Top Secret, i segreti del successo degli imprenditori, delle loro aziende. In questa puntata ci occupiamo di just in time, cioè di arrivare in tempo, perché? Perché il protagonista è una società che si occupa in Italia del settore medicale, leader nel settore medicale, lo dobbiamo dire, con sede a Bologna e oggi qui con noi c'è il suo fondatore, uno dei soci fondatori, che è anche console di Norvegia e console di Svezia, Gianni Bararelli. Buonasera, benvenuto. Grazie, buonasera, benvenuto a voi. I Redeem, questo è il nome della società. Abbiamo detto una società che è leader nel settore medicale, del just in time, e perché? Perché è una società che si occupa di commercializzare e distribuire prodotti che ci salvano la vita, come il defibrillatore, per esempio. Questa azienda nasce da una sua esperienza, un know-how lungo 20 anni in Norvegia, proprio nel settore medicale. Poi lei, qui in Italia, ha deciso di fondare I Redeem. Sì, diciamo che I Redeem nasce nel 2011, insieme ad altri soci di Torino e di Bologna, e la finalità di questa società è la distribuzione in Italia del marchio Philips, dei fibrillatori Philips, con appunto un obiettivo ben specifico, che è quello di cercare di dare una risposta alle problematiche dell'arresto cardiaco. Quindi la società ha questo obiettivo e questo payoff di just in time, sta a significare e vuole anche, diciamo, rimarcare il fatto che prima si arriva con un defibrillatore e prima si riesce a salvare una vita a una persona che ha un arresto cardiaco. Anche perché sappiamo che l'infarto è la prima causa di morte nei paesi industrializzati e quindi il defibrillatore è veramente necessario ed è l'unico modo, l'unico mezzo forse per salvare più vite possibili. Sì, le malattie cardiovascolari sono la prima ragione di morte nei paesi industrializzati. All'interno delle malattie cardiovascolari una delle patologie più importanti è l'arresto cardiaco che colpisce ogni anno circa 60.000 persone solo in Italia e che purtroppo, stando così alle statistiche degli organismi scientifici, solamente il 5% riesce a sopravvivere. Quindi diciamo ogni anno è una patologia che genera almeno dai 50 ai 55.000 decessi. Ecco, quindi nel 2011 nasce da lei insieme ad un altro gruppo di imprenditori questa azienda, questa società che decide appunto di prendere a braccetto la divisione Philips che tra l'altro ha una definizione ben precisa Emergency Care and Resuscitation, leader appunto nel mondo di questo tipo di tecnologia e quindi il defibrillatore diventa il vostro prodotto più curato e più richiesto anche. Sì, già nell'azienda norvegese per cui ho lavorato vent'anni avevamo sempre i defibrillatori Philips che poi abbiamo trasferito all'interno di Airidim. Per cui noi veniamo da questa esperienza, tutto il gruppo di persone che lavora con me, da cominciare da Alberto Zibordi, Giuseppe Daidone, anche parecchie ragazze dello staff dell'ufficio, vengono da questa esperienza ventennale di Lerdal, che è la società che in Italia ha portato alla cultura della rianimazione cardiopolmonare, quindi la rianimazione cardiopolmonare è le manovre di primo soccorso, quindi massaggio cardiaco e ventilazione abbinate alla defibrillazione. Quindi diciamo c'è proprio una questione di heritage, diciamo di cultura ereditaria, di DNA se così si può dire che ci portiamo dietro grazie a questa esperienza. La vostra è una società B2B, nel senso che vi rivolgete ad aziende, a luoghi di lavoro, per esempio uffici, le società sportive, i luoghi dove si pratica lo sport e le palestre, ecco, perché c'è una legge tra l'altro nel 2016 per cui il defibrillatore diventa obbligatorio in certi luoghi e in certe situazioni, ecco, proprio perché salva vita. Esattamente. Noi operiamo su vari settori, abbiamo anche una divisione di prodotti professionali, quindi che vanno in ospedale e case di cura, quindi prodotti estremamente ad alta tecnologia, e poi lavoriamo appunto con il marchio Philips per quanto riguarda i piccoli defibrillatori semiautomatici. In Italia la situazione è ancora così, si può dire, a macchia di leopardo, purtroppo siamo leggermente indietro da un punto di vista legislativo, per cui abbiamo trovato sicuramente un riscontro molto più veloce su queste problematiche nel settore privato e nelle aziende. Il tutto è partito dalle grandi multinazionali con sede in Italia, dove fa parte della policy aziendale di queste aziende avere il defibrillatore all'interno dell'azienda. Ecco, quindi defibrillatori potremmo dire alla portata di tutti, cioè che tutti possiamo usare senza essere un medico, e defibrillatori invece che vanno negli ospedali, che vanno in quei luoghi di cura, dove è necessario l'intervento. E soprattutto possiamo dire che in questo periodo di Covid, dove ci sono stati sicuramente tanti casi, purtroppo, di persone che sono arrivate in ospedale, i vostri strumenti sono stati preziosissimi. Sì, diciamo che in questo periodo di Covid in particolare è importante sottolineare che purtroppo il Covid ha fatto perdere un po' di attenzione sulle problematiche relative al cardiovascolare. Purtroppo, da quello che sembra e dagli studi pubblicati, i morti per cardiovascolare sono quasi triplicati rispetto al periodo dell'anno scorso. Questo perché l'attenzione si è spostata sul Covid e quindi si è persa effettivamente questa attenzione. Poi, per quanto riguarda l'aspetto della patologia del Covid, abbiamo delle soluzioni più di carattere professionale, fra cui questi defibrillatori multiparametrici tedeschi della Corpuls e anche degli ecografi particolari canadesi wireless che aiutano soprattutto nella diagnosi da Covid. Ecco, ci sono gli ecografi portatili anche tra i vostri prodotti. A che cosa servono? Come si usano e chi li può usare? Diciamo che come in tutte le cose la tecnologia fa dei passi avanti. Per cui una volta un ecografo era uno strumento molto grande, ingombrante, serviva un carrello. Oggi grazie a queste tecnologie, soprattutto questa tecnologia canadese, diventa uno strumento tascabile. Quindi non è più il paziente che va dal medico, ma è il medico che va dal paziente. Quindi ho il vantaggio di poter, per una persona, poter fare una diagnosi spostandomi facilmente. Se pensiamo in periodo dei Covid, dove abbiamo tutta una serie di problematiche all'interno dell'ospedale, io con uno strumento che metto in tasca sono in grado di andare, fare una diagnosi e trasferire i dati. Quindi è proprio una tecnologia che è oggi alla portata di tutti e permette soprattutto una diagnosi molto precisa e realistica. Tra i vostri obiettivi c'è anche proprio la cultura della prevenzione, ovvero la cardioprotezione, possiamo definirla così, in quanto cultura da poter in qualche modo diffondere ovunque, in tutto il mondo, in qualunque luogo e anche l'educazione e la formazione sono importanti. Sì, in effetti noi venendo da questa esperienza norvegese siamo stati la prima realtà in Italia che ha portato questo tipo di cultura e che arrivava dai paesi scandinavi. Quindi abbiamo cercato di portare questa cultura insegnando la rianimazione cardiopolmonare basic, quindi il massaggio e la ventilazione alle persone nel momento in cui si trovano ad intervenire con un arresto cardiaco. Quindi fa proprio parte del nostro DNA. Il defibrillatore è stato un percorso naturale, già all'epoca noi avevamo i defibrillatori prodotti in Norvegia, quindi abbiamo una grossa storia sotto questo aspetto. È chiaro che noi siamo un'azienda a tutti gli effetti, lo eravamo anche allora, multinazionale, scandinava, per cui abbiamo cercato di collaborare con tutte quelle realtà scientifiche che poi si occupano di portare, di disegnare le linee guide e di cercare di trasferirle in ambito di educazione pubblica. Dove sono i vostri defibrillatori in Italia? Dove li possiamo trovare? Guardi, da... Chi sono i vostri clienti? Quindi a chi li avete forniti? Dai musei vaticani che sono stati i primi musei in Italia a dotarsi di defibrillatori, anche perché i musei vaticani oggi hanno circa 7 milioni di visitatori all'anno. Alla metropolitana di Milano, oggi abbiamo circa 118 defibrillatori all'interno della metropolitana di Milano, abbiamo i defibrillatori nelle città, quindi praticamente abbiamo delle città cardioprotette da Piacenza che è stata la prima città in Europa, grazie al professor Capucci e la dottoressa Staschieri a permettere nel 1999 l'utilizzo del defibrillatore alle persone non sanitarie, a città come Monza dove attraverso oberianza per il cuore abbiamo installato i defibrillatori nelle città e nelle strade, nelle piazze e anche nella Villa Reale, sui treni Italo, sugli aerei dell'Alitalia, diciamo in tutte quelle realtà dove c'è un certo tipo di assembramento e soprattutto anche tutto quello che è il mondo dello sport, quindi società sportive piuttosto che stadi e piuttosto che grossi centri di aggregazione come fiere, centri commerciali e così via. E poi avete anche a cuore il concetto di Smart City Health, lo vogliamo spiegare? Che cosa consiste? Sì, questo è un po' legato al discorso del consolato, diciamo che io rappresento sia la Norvegia e Svezia nella mia realtà e Oslo ha vinto il premio come capitale green capital, quindi la capitale green capital d'Europa ha tutta una serie di parametri molto specifici, quindi la città con un certo numero di auto elettriche non ha scoppio, la possibilità di usare mezzi alternativi di locomozione come monopatine e biciclette, la pulizia dell'aria, la pulizia dell'acqua, quindi tutto un discorso particolare di riciclo e all'interno di questo concetto che stiamo cercando di portare anche attraverso la cultura scandinava in Italia, abbiamo collegato il discorso di Smart City anche al discorso Health, quindi una città smart e anche una città che mi permette se io mi trovo ad avere una problematica di salute ad essere risolta in tempo veloce, quindi la possibilità di inserire i defibrillatori, installare i defibrillatori nella città, nelle piazze, formare il maggior numero di persone, avere un sistema intelligente che mi controlla i defibrillatori e fare in modo che quando si manifesta un arresto cardiaco io ho un sistema particolare per allertare i soccorritori attraverso un sms. Ecco, tra l'altro mi sembra molto interessante sottolineare il fatto che tutti i vostri defibrillatori ovunque siano installati possono essere controllati da remoto. Sì, adesso diciamo che è un'opzione che come Aeridima abbiamo messo a punto nel 2011 insieme al nostro gruppo di ingegneri di Torino e c'è anche la possibilità di poter controllare attraverso un sistema che va ad integrare il defibrillatore, la funzionalità del defibrillatore. Quindi io a distanza sono in grado di capire se i defibrillatori che ho installato funzionano o perlomeno sono stati utilizzati o presi addirittura e questo lo si può vedere chiaramente per esempio nella metropolitana di Milano dove hanno installato 118 defibrillatori telecontrollati e attraverso la dashboard della sala controlli dell'ATM sono in grado di vedere dove sono, come sono installati, la posizione GPS e nel caso qualcuno li prenda la possibilità di poter verificare cosa sta succedendo. Esiste un defibrillatore per tutti, anche per i bambini? Sì. Defibrillatore per età pediatrica, so che li avete installati anche in importanti famosi ospedali per i bambini? Sì. Diciamo che l'arresto cardiaco nel bambino è una patologia rara, ma può succedere. Molte volte l'arresto cardiaco nel bambino si manifesta come con causa di un arresto respiratorio. Quindi l'arresto respiratorio mi porta all'arresto cardiaco. In questo caso i nostri defibrillatori Philips, tra l'altro Philips, premetto, è l'azienda che al mondo ha più defibrillatori installati di questo tipo, sono 2 milioni i defibrillatori. E proprio abbiamo consegnato il 2 milionesimo all'ente più, all'organismo scientifico più importante in Italia, che è l'Italian Association Council. E questi defibrillatori hanno anche la possibilità, nel caso si manifesti un arresto cardiaco in un bambino, di poter essere utilizzati sul bambino stesso. Il progetto futuro che vi sta più a cuore come azienda, non soltanto per i defibrillatori, ma ovviamente anche per tutti gli altri prodotti professionali che commercializzate e che distribuite. Però forse in particolare sul defibrillatore so che avete un obiettivo più forte. Allora, purtroppo il vero problema della morte improvvisa in Italia è che circa il 75-80% degli arresti cardiaci avviene a casa. Quindi l'obiettivo più importante per cercare di combattere questa patologia è quello di installare i defibrillatori nei condomini. Qui abbiamo avviato una bellissima collaborazione con la NACI, che è la più grossa organizzazione in Italia che si occupa di amministrazione di immobili. E in particolare proprio con la NACI, con il dottor Burelli e con il dottor Venunzio stiamo portando avanti questo tipo di cultura, perché se riuscissimo a installare i defibrillatori nei condomini salveremo molte più vite. Abbiamo delle realtà importanti già di defibrillatori nei condomini installati a Milano, a Monza, e addirittura a Piacenza abbiamo il primo quartiere cardioprotetto, dove tutti i condomini hanno la possibilità di accedere a un defibrillatore. Questo è sull'aspetto dei defibrillatori. Sull'aspetto professionale il nostro obiettivo è quello di portare l'ecografia dal paziente, quindi stiamo lavorando alla cremente, tra l'altro con il nostro business development manager Antonino Bonanno, per cercare di portare questa cultura, quindi per permettere che l'ecografia diventi una pratica diciamo di routine. Quindi, I redeem, just in time. Defibrillatori prima di tutto, innanzitutto proprio perché è il primo strumento che ci può salvare la vita. Il sogno nel cassetto è quello di poterlo mettere in tutti i condomini e chissà quante vite davvero si potrebbero salvare. Secondo lei, dopo l'esperienza e tutto il know-how di questi anni con questa azienda, qual è il segreto del successo della vostra società? Beh, è successo. Diciamo che noi, la forza forse della nostra azienda è che siamo un gruppo molto coeso, veniamo tutti da un'esperienza insieme con questa azienda norvegese di vent'anni, quindi sicuramente abbiamo sempre lavorato con standard, se mi consente il termine scandinavi, quindi il grande rispetto verso il lavoro degli altri, il grande rispetto verso la persona, un'amicizia sincera, seria e soprattutto la genuinità dei sentimenti e il massimo impegno. Quindi diciamo il team, il fatto di circondarsi di persone valide, il fatto di poter crescere queste persone, lavorare insieme a loro, ma soprattutto riconoscere i meriti che hanno acquisito. Quindi diciamo che un po' il segreto potrebbe essere un po' così questa cultura che ci contraddistingue. Tra l'altro lei, Gianni Maravelli, è anche direttore marketing di Airyteam. Sì, beh, faccio anche il direttore marketing, proprio per il fatto dell'esperienza che ho, però anche così abbiamo un team completo. Diciamo che come direttore marketing uno degli obiettivi, anche se la parola marketing molte volte suona un po' strana, è proprio quello di trovare delle soluzioni, delle idee nuove da proporre al mercato. E quindi in questa ottica noi abbiamo fatto tante cose. Piacenza è stata la prima città in Europa ad avere i defibrillatori che potevano essere utilizzati anche da personale non sanitario. Monza è stata la prima città in Europa a mettere i defibrillatori nelle strade, nelle piazze. Per cui insomma in questa ottica abbiamo sempre cercato di portare questa cultura nell'innovazione per poter poi da lì scaturire e creare delle nuove idee che permettono poi di essere traslati nel business. Quindi mi sembra di capire che poi quello che dovrebbe essere potenziato in Italia soprattutto è la cultura, la prevenzione, la cardioprotezione, perché gli strumenti ci sono, però bisogna trovare il modo di poterli collocare in tutti quei luoghi dove sono necessari. Come mai è così difficile secondo lei in Italia riuscire in questa impresa? Il problema è legislativo. Noi abbiamo fermo una legge al Senato da parecchio tempo che permetterebbe alle persone che utilizzano un defibrillatore la depenalizzazione quindi nel momento in cui usa un defibrillatore non incorre in nessun tipo di problematica penale anche perché è il defibrillatore che dà l'ok per defibrillare o meno. E poi sicuramente a livello legislativo sono mancati tutta questa serie di passaggi come l'obbligatorietà dei defibrillatori all'interno di certe strutture. Faccio presente che in Spagna, in tutte le scuole della Spagna il defibrillatore è diventato obbligatorio, in Italia ancora non lo è. Quindi c'è bisogno ancora di un iter legislativo piuttosto lungo. C'è un gap purtroppo, quello che ci contraddistingue è un gap legislativo rispetto ad altri paesi molto più in ritardo ma soprattutto molte volte molto più stringente per cui questo aspetto limita il discorso del business e della cultura. E allora, iRedeem, just in time, grazie ai vostri defibrillatori, grazie anche alla Philips ovviamente che li produce perché li avete anche scelti, motivo c'è perché è un'azienda leader nel mondo. Quindi defibrillatori non solo ma soprattutto, lo diciamo a voce alta, che ci sia una cultura per la prevenzione e la cardioprotezione che vi sta tanto a cuore. La ringrazio per essere stato con noi, per averci raccontato la sua azienda, Aeroidim, Gianni Baravelli, appunto console, abbiamo detto, sia di Norvegia che di Svezia e non soltanto fondatore ma anche direttore marketing di questa società, che ha sede a Bologna. Bologna e Torino. Bologna e Torino, perfetto. Allora, speriamo di non doverli usare questi defibrillatori, però sono necessari, sono importanti ed è giusto che ci siano. Grazie ancora per il vostro lavoro. Grazie. Io vi do appuntamento con i nostri programmi, quelli di Business 24 domani sera, sempre alla stessa ora, su Sky Canale 821. Vi ricordo che il lunedì e il mercoledì c'è Top Secret, c'è il programma dove mettiamo in vetrina e mostra quelle che sono le aziende importanti, quelle che hanno grande successo in Italia, come quella che abbiamo ascoltato questa sera. E le migliori puntate di Top Secret le potrete seguire sia sul nostro canale YouTube, quello di Business 24 che sul nostro sito, appunto, il sito di Business 24. Appuntamento quindi il lunedì e il mercoledì alle 20.30 e grazie per averci seguito. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.